buongiorno amici di procuratore calcio.com era un po di tempo che non facevo video però sono stato impegnato in un viaggio di vacanza e lavoro in spagna soprattutto per incontrare vari colleghi rappresentanti di calciatori e club e appunto in questo viaggio ho potuto sentire soprattutto quando passavo nella zona nord della spagna vicino bilbao la risonanza che ha avuto un fatto di cronaca relativo un calciatore dell'atletic bilbao inaki williams tra l'altro vicino al napoli che era stato accostato al napoli diverso tempo fa in quanto questo calciatore dell'atletic bilbao avrebbe sottoscritto secondo quanto scritto dai media riportato anche dai media italiani un contratto di dieci anni cosa che secondo le norme come sapete sullo status del trasferimento dei calciatori non potrebbe essere fatto di fatti così non è stato cioè mi interessava fare un video su questo aspetto proprio perché non essendo possibile sottoscrivere un contratto per più di cinque anni per i calciatori in realtà quando si vuole esercitare un diritto maggiore come è stato fatto in questo caso con il bilbao è stato sottoscritto un contratto di cinque anni con opzione in favore del club per ulteriori cinque anni questo di fatto sancisce che il club ha un diritto decennale sul calciatore però tecnicamente non è stato sottoscritto un contratto di dieci anni bensì di cinque sarebbe anche strano al contrario visto che come sapete la carriera di un calciatore è soggetta di infortuni ad improvvisi stop precoce anzi cessazione quindi è normale che un club anche per tutelare se stesso non sottoscrivano contratti eccessivamente lunghi più di cinque anni perché non avrebbe senso detto questo però è vero che di fatto il bilbao si tiene un diritto importante su dieci anni di carriera di un calciatore questo potrebbe essere fatto anche in italia riportato soprattutto quando si tratta di calciatori molto giovani con i quali si vuole diciamo blindare un accordo quasi a vita tutto sommato quindi non è detto che in futuro non vedremo anche in italia delle opzioni lunghissime a termini di un contratto di cinque anni sarebbe la soluzione per evitare tanti ricatti da parti di calciatori e club e tutelare maggiormente questi club che ormai sempre più spesso perdono calciatori importanti a parametro zero e per tornare a noi vi ricordo che il 9 settembre è il termine ultimo per iscriversi all'esame da agente sportivo coni il quale esame appunto sarà a roma per quanto riguarda la data dell'esame dobbiamo ancora aspettare che il coni pubblichi sempre sul sito agenti sportivi coni punto it la data esatta dell'esame che prevedibilmente sarà per i primi di ottobre vi farò sapere chiaramente come al solito tempestivamente tutte le news mi raccomando seguite la pagina iscrivetevi al canale cliccando sul tasto rosso iscriviti e sulla campanella di notifica per rimanere aggiornati su tutti i video che pubblico un abbraccio